Si chiama Keenan, comandante Samuel Keenan, l'uomo piuttosto che abbia conosciuto. Assegnato all'ambasciata americana in Moldavia. Benvenuto all'inferno, comandante Keenan. L'ufficiale della marina Sam Keenan non prevedeva certo di avere molti guai, ma si sbagliava. Stanno prendendo d'assedio il palazzo presidenziale! L'ambasciata è in stato d'assedio. Devi rilasciare gli ostaggi. La democrazia è in pericolo. Ci servono rinforzi. I responsabili vorrebbero lavarsene le mani. Ma Keenan è di un altro parere. Fagli fare un giro all'inferno. È un ordine. Sì, signore. Jean-Claude Van Damme. The Commander. Benvenuto in America, signor Presidente. Quando è il momento di agire.